Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri, grave lutto per Maria De Filippi e più in generale per tutta la televisione italiana. In questo video vi svelerò dei retroscena glamorosi su uno dei fatti più discussi degli ultimi tempi. Seguite questo video fino alla fine. Prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ce ne pubblicherò immediatamente uno nuovo nel ultimo video del prima di Marco Liguri con immenso dispiacere. Abbiamo parlato della triste perdita per il Mediaset e più in generale per tutta la televisione italiana. L'extronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella, è scomparso a soli 35 anni. Purtroppo l'ipotesi che avevamo paventato nel video precedente trova conferma. Manuel si è tolto la vita in questo video. Verso la fine parleremo della struggente ed etica fatta da Maria De Filippi. Maria De Filippi ha voluto ricordare il suo tronista nell'edizione 2016, così come ha fatto anche Gianni Sperti, che ha dichiarato Le persone rimanevano colpite dall'aspetto fisico di Manuel, ma rimanevano ancora più sorprese dalla sua purezza d'animo. E la purezza d'animo sembrerebbe essere il leitmotiv di questo ragazzo, triste e puro d'animo. Perché Manuel avrebbe compiuto l'estremo gesto? Nel 2019 Manuel aveva perso la madre, da allora era caduto in depressione, non si era più ripreso e tutto il resto purtroppo lo conosciamo già con il culmine dell'estremo gesto nella giornata di martedì. Manuel non c'è più e il suo ricordo rimarrà sempre con noi. Voglio chiudere questo video con la bellissima dedica fatta da Maria De Filippi, che ci dice che era un ragazzo puro, con un'anima dolce e gentile, forse troppo puro per questo mondo. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti.